Sono un giornalista indignato. La cosiddetta iniziativa sull'autodeterminazione è un attacco alla Convenzione e alla Corte Europea dei diritti dell'uomo. È un tribunale che difende la libertà di stampa anche in Svizzera. Ha così indotto il Tribunale federale a correggere alcune sue decisioni. È stata annullata, ad esempio, la censura ad un documentario televisivo. Poi i giornalisti hanno ottenuto il diritto di proteggere le loro fonti, di utilizzare documenti confidenziali e la Camera nascosta se è nell'interesse pubblico. Ma adesso l'Udc attacca questo baluardo della democrazia, della libertà d'espressione, della libertà di stampa. Ed in un momento in cui i media sono minacciati un po' tutto il mondo, dagli Stati Uniti alla Russia, dalla Turchia all'Ungheria. I giornalisti vengono diffamati, incarcerati ed uccisi persino nella democratica Europa. A questo punto cosa si fa? Non ci sono dubbi. No a questa pericolosa iniziativa.